Ciao Pragolinea, nuovo video! Questa volta vi faccio la recensione e vi faccio vedere praticamente come funziona la macchina del caffè dei lunghi della Magnifica S. Dato che avevo fatto il video in cui vi ho fatto vedere che ho comprato questa macchinetta, ho ricevuto tantissimi commenti come funziona, come pulirla, eccetera. E dato che molta gente non ha ancora capito come si fa, ho voluto fare anche questo video mettendo dentro recensione e come si usa. Ripeto che questo video l'ho fatto perché me l'avete chiesto in molti. E quello che vedete è praticamente cappuccino, eccetera. Io non sono esperta, non faccio la barrista, non siamo in un bar e tantomeno sono a casa, per cui il cappuccino lo faccio come voglio io. Per cui sotto nei commenti non voglio sentire, il cappuccino non si fa così, eccetera. Voglio precisare già questa cosa qua perché nell'altro video che avevo fatto ci sono stati questi commenti, saranno due commenti dove molte, cioè, mi avete proprio detto che il cappuccino non si fa così. Ma io ovviamente non sono al bar, voglio precisare. Detto questo, prima di iniziare questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Se volete lasciatemi un like, così farò altre tipologie di questo video. Se volete seguirmi su Instagram, vi lascio qua il mio Instagram e in più ve lo lascio sotto in tutti i miei video. Detto questo, e anche un commentino, detto questo voglio dirvi solo due cose, cioè partire già dalla recensione e farvi vedere come si usa. Allora, in questa macchinetta mi sono trovata veramente bene, è ottima come macchinetta e sinceramente, cioè, i soldi che ho speso, che avevo già detto il prezzo di quanto l'ho pagata, per cui non sto a dirvelo, i soldi che ho speso in questa macchinetta lo spesi bene, perché è ottima per fare il cappuccino, per fare il caffè e in più è facilissima da pulire, come adesso vi farò vedere. Per cui, non c'è tanto da dire perché è buona, come macchinetta, io l'ho presa nel negozio, se non sbaglio Euronics, se non mi sbaglio, però la trovate in tutti i negozi. Io vi dico quello che penso e ovviamente non è una sponsorizzazione, non è niente, vi faccio solo vedere come funziona e in più vi dico la mia, per cui io mi sono trovata bene, se volete prenderla, eccetera, ve lo consiglio perché è un'ottima macchinetta. Detto questo, vi lascio il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, accendiamo la macchinetta. Ci vuole un po'. Ok. Ok. Questo lo buttiamo e adesso vi faccio vedere il cappuccino. Allora, dovete schicciare questo. Intanto si si carica e poi girate la manovella. Ok. Un'imposto Acastorno Un'impiore 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 ovviamente è schiacciato due volte perché così almeno fa il caffè questa qua è la tozza grande dove esce il caffè se volete mettete due tazze grandi due tazze piccole cioè quello lungo e quello corto che è il caffè lui vuole abbondare per cui ho fatto quello con la tazza grande questo è il cappuccino e quello è il caffè allora questo si accende la macchinetta qua è la tazzina del caffè corto questo invece segna due tazzine corte e poi ci sono quelle grandi queste due tazzine grandi e una grande questo è il vapore che ovviamente voi schiacciate e girate questa per fare il cappuccino come avete visto prima questo qua per regolare i chicchi noi la mettiamo sempre al massimo e poi c'è anche quella con il caffè il caffè già macinato il caffè già macinato quella che voi dovete metterla qua dentro questo non so se si vede in questa vaschettina qua ovviamente un cucchiaio lo mettete qua dentro e si può fare anche quello normale senza usare i chicchi invece questi dato che me l'avete chiesto nell'altro video quando c'è qua il pallino rosso vuol dire che devi pulire la macchina sia qui che sia sopra qua sopra segna un triangolo adesso non lo segna perché vabbè la macchina è già stata pulita però quando vi segna il triangolo vuol dire che dovete pulire la macchina perché questa ha il filtro invece se vi segna così è perché manca l'acqua questo è il segno che manca l'acqua per cui questa è la vaschetta la tirate fuori qui adesso l'acqua è quasi diciamo adesso metto l'acqua questo invece il filtro questo qua è il filtro adesso mettiamo l'acqua che manca dentro nella vaschettina mettiamo l'acqua dove c'è il livello adesso non riesco a prenderlo riempita adesso possiamo mettere dentro ok io invece se vi segno questo questo segno qua è perché dentro dovete svuotarlo dovete svuotarlo cioè in senso che questo qua allora qui c'è l'acqua che ovviamente cade giù invece qua nella vaschetta è dove scende il caffè che è questo per cui lo dovete svuotare dopo aver svuotato anche questo lo mettiamo dentro ovviamente ricordatevi che se vi segna questo è perché è piena la vaschetta del caffè e adesso chiudiamo e ovviamente non appare neanche un segno perché abbiamo fatto praticamente tutto qui è dove potete regolare se la tazza è grande o è piccola per cui c'è la poi questo va bene per fare il cappuccino e poi qui mettete i chicchi che anche questo è per regolare i chicchi se lo volete piccoli grossi praticamente così invece per pulire la macchina dove c'è dentro il filtro serve praticamente questo che adesso vi farò vedere qua nella foto serve questo per pulire la macchina quando ovviamente risulta col triangolo che poi non si vede qua forse si si adesso si vede questo che non so se si sta vedendo questo il triangolo dove dice che va pulita la macchina dentro il filtro in poche parole per cui dovete svuotare l'acqua mettere togliere anche il filtro poi com'era mettere tanto così il prodotto e poi mettere l'acqua fino al lato B mettere il prodotto dove c'è la A che ci dovrebbe essere il segno qua che adesso non so non si vede niente perché non c'è è un po' buio e poi forse si tenere premuto il pulsante per 3 secondi e aprire la manovella per mettere la ciotola sotto perché esce l'acqua e ci vuole quanto ci vuole 30 minuti di più 20 minuti per pulire tutta la macchina poi dopo il procedimento come avevo detto che se segna qua l'acqua che manca l'acqua perché voi dovete riempirla comunque è semplice perché è semplice sia per pulirla che ha il filtro e ovviamente pulisce tutta la macchina dentro e in più vabbè per l'acqua e pulirla anche fuori è anche semplice e niente questa è la macchinetta se avete domande fatemelo sapere sotto nel video ok dopo 15 minuti la macchinetta si spegne da sola senza che voi la spegnete o toccate i tasti per cui automatica si spegne da sola o toccate o toccate la macchinetta